E' uscito Perinaudi molto molto tanto bene e noi siamo contenti di avere l'autrice Caterina Bonvicini qua in studio. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Benvenuta. Allora questa è una storia che riguarda te e riguarda non solo te ma tutte quelle persone che attraversano il Mediterraneo in cerca di speranza, in cerca di un futuro, in cerca di un presente tante volte e di una vita migliore. E' una storia romanzata ma è una storia che contiene tanta verità. Vera. Innanzitutto come nasce? Che cosa ci fa? Perché nasce da una tua esperienza personale proprio a bordo delle navi umanitarie. Che cosa ci faceva? Che cosa ci fa una scrittrice? Che cosa ti ha portato a salire su queste navi? Dunque intanto io ho cominciato nel 2018, ho fatto fino al 22, poi continuerò, ne farò ancora di missioni. Ho fatto due missioni con la Mare Ionio di Mediterranea, un altro mese con la Ocean Viking di SOS Mediterranei e Medici Senza Frontiere e poi di nuovo sono partita con Medici Senza Frontiere con la Geo Barents. E volevo raccontare il Mediterraneo da dentro perché se ne parla tanto però poi è difficile raccontare quello che succede veramente nelle navi. L'ho fatto con due libri, uno è Mediterraneo a bordo delle navi umanitarie insieme a Valerio Nicolosi che è un reportage e quindi spiego proprio come funziona perché se ne parla tanto in modo polemico però poi si sa veramente poco di quello che è il Mediterraneo. E poi volevo farlo con un romanzo che è una storia vera, quindi autofiction, cioè una protagonista che è Kate e sono io, mio marito Rick, perché appunto in una di queste missioni abbiamo incontrato, io ho incontrato una bambina e abbiamo deciso di portarla a casa con noi poi insieme al fratellino e alla mamma e quindi è stata questa esperienza di vivere, passare quest'estate, vivere questo periodo con loro. Poi non dirò come va a finire ma insomma un'esperienza molto indimenticabile diciamo molto molto tanto indimenticabile. E immagino anche che è un'esperienza che lascia molti segni addosso. Se non raccontiamo il dopo raccontiamo però il prima perché esiste e c'è una preparazione anche fisica che bisogna fare per un'esperienza del genere. Sì, quando parto per il Mediterraneo diciamo cerco di arrivare molto riposata perché è la cosa più stancante che conosco proprio fisicamente. Infatti il mio problema è che ho quasi 50 anni quindi ormai ho una certa età e mi dico ma sarò ancora in grado e questo proprio lo scrivo nel libro sarò ancora in grado di affrontare un mare così estremo che è un mare attraversato da giovani perché sono giovani quelli che tentano l'attraversata ma anche i soccorritori sono giovani. Infatti c'è una delle protagoniste che è ispirata, la nave è inventata in questo caso, si chiama Endurance ma chiaramente tutte le cose che racconto sono vere e allora anche i personaggi dei soccorritori sono inventati però la soccorritrice giovane è ispirata alla mia amica che è soccorritrice di professione che hanno tutti i 20 anni meno di me se non 30 e quindi diciamo che mi riposo moltissimo e faccio molta ginnastica perché è proprio faticoso fisicamente anche una persona bagnata pesa tantissimo i gesti anche se è una questione di tecnica quando tu navighi su un rib cioè un gommone di salvataggio ai 60 chilometri orari per tre ore sotto il sole di agosto devi usare tutti i muscoli per tenerti per fare i piegamenti quindi è come fare tre ore di palestra e quindi è meglio arrivare belli allenati. Adesso non sono tanta allenata ma se dovessi partire comincerai a fare ginnastica tutti i giorni per un mese. Se esiste una preparazione fisica però Caterina una preparazione psicologica è difficile da fare? Impossibile, è impossibile perché il Mediterraneo ti sorprende sempre. Ti sorprende anche piccoli dettagli curiosi che non ti aspetteresti. Uno degli esempi che faccio è vedere le ragazze che si truccano sulla nave volevano tantissimo uno specchio, dormono su un cartone e poi si truccano su un partite senza niente ma con mascara, rossetto e matita, eyeliner in tasca. Si truccavano, erano meravigliose, tutte pettinate e poi arrivavano a trovare i ragazzi e arrivavano in ritardo e si lamentavano perché era finito il tempo delle visite perché sono comunque dei ponti separati. Noi diciamo ma quanto ci avete messo a truccarvi, cosa dovete fare su una nave? Però sono adolescenti, noi non ci pensiamo a questo. Alcuni ti fanno anche arrabbiare, si fanno i selfie durante il soccorso e tu dici no, è pericoloso un soccorso perché possono ancora morire durante il soccorso e loro sono già lì a farsi il selfie pronti a postarlo. Però noi non ci pensiamo ma sono tutti ragazzi, la maggior parte sono adolescenti, i cosiddetti minori non accompagnati che viaggiano da soli, gli altri hanno al massimo 20-22 anni e quindi si comportano come tutti i ragazzi del mondo. Tu hai scoperto cose che tu dici, noi normalmente non ci pensiamo, a cos'altro non pensiamo noi quando guardiamo i telegiornali, quando leggiamo i giornali che tu invece hai scoperto stando proprio a bordo di queste navi? Intanto non pensiamo alla fatica che fanno i soccorritori, che è un mondo molto tecnico, infatti a me hanno preparato, cioè io oltre ho studiato queste cose perché comunque arrivo preparata sulle navi ma si fanno dei training che durano dalle 8 di mattina alle 8 di sera, poi 8 ore in mare, devi fare le prove per tutto. Sembrano delle sciocchezze ma anche usare gli oggetti per il salvataggio come saper lanciare i salvagenti a ferro di cavallo, sapere come ci si deve comportare davanti a un naufragio, usare quella che è la banana che non serve per giocare in spiaggia tirati da un motoscafo ma per mandarla in mezzo a un naufragio quando c'è tanta gente in acqua che si può aggrappare. Sono tutte cose tecniche che tu devi imparare molto velocemente perché quando tu sei sul gomone di salvataggio devi essere d'aiuto come gli altri soccorritori, quindi ho imparato a farlo come tutti gli altri. Quindi non è un mondo improvvisato, è un mondo di gente che si è inventata qualcosa, il soccorso in mare che la Guardia Costiera lo conosce da secoli, però se lo sono inventati come farlo sulla nave Ong, come organizzare la vita a bordo, anche delle cose piccole, ma mi ricordo che facevano ginnastica sulla Geo Barents, c'erano 700 persone e non ci davano un porto, era importantissimo per queste persone scaricare endorfine. Allora c'era un sudanese che faceva da trainer in piedi sui bagni, che usava i bagni come un palco e faceva far ginnastica a centinaia di persone sotto. Una scena meravigliosa, tutti che alzano le braccia contemporaneamente per far ginnastica, che però è importante perché non puoi stare seduto su un cartone per una settimana. Perché non pensiamo a queste cose? Te lo chiedo perché tu collabori anche con te state. Perché l'opinione pubblica è polarizzata su determinati aspetti e si fa fatica? È difficile che venga anche raccontata tutto questo mondo ricco di sfumature e di umanità? Perché tutto è polarizzato fra buonismo e cattivismo. Io non ho voluto nessuno dei due. Primo perché faccio letteratura e il buonismo e la letteratura è deleterio. Secondo, il cattivismo non mi interessa perché vado sulle navi e quindi volevo raccontare la realtà per quello che è, che è fatta di sfumature. Però, dato che non si conosce questa realtà, in questa ignoranza, nel senso migliore del termine, proprio perché non si conosce, non si sa come vengono trovate queste navi. Invece vengono trovate grazie agli aerei di ricognizione, grazie al radar, grazie all'Armphone, che è una ONG che segnala i naufragi, grazie a delle segnalazioni col binocolo. Uno immagina, in questo vuoto di conoscenza, si inserisce la propaganda che va a prendere la pancia delle persone. Allora ho detto però, con la letteratura posso farlo anch'io, di prendere la pancia delle persone. Allora ho cercato di farlo. Ti racconti di Emy? Sì, questa bambina me ne sono innamorata. A un certo punto, quando è sbarcata, non me la sono sentita di chiudere così il rapporto. Per cui le mandavo delle cose nel cara, la sentivo tutti i giorni in videochiamata, poi a un certo punto io e mio marito ci siamo guardati, lei era da sola con la mamma di 22 anni, ne aveva 5 e mezzo all'ora, quasi 6 anni. E abbiamo detto, beh, prendiamola a casa nostra. A quel punto scopriamo che lei ha un gemello che è rimasto da solo in Libia. Panico. Perché noi siamo abituati ad avere a che fare con persone che nel momento in cui tu fai il soccorso non sono già salve finché non mettono il piede sulla nave, ma sono come minimo a 30 miglia dalla Libia. Invece questo bambino era in Libia. Allora ho chiesto aiuto a un giornalista di avvenire, Nello Scavo, con cui siamo partiti diverse volte, siamo partiti insieme ben due volte con la Mare Ionio di Mediterranea. E siamo molto amici e lui mi ha aiutato, ho cercato di mettere in contatto con l'UNHCR e evitare, Eloime, e evitare l'attraversata. Perché sapendo che orrore è l'attraversata, non volevo che questo bambino che sentivo già mio figlio, perché noi non siamo abituati a pensare, oddio mio figlio fa l'attraversata in gommone. Io ormai avevo l'altra, ho detto oddio mio figlio fa l'attraversata in gommone, un pensiero abbastanza straniante. Però non ci si è riusciti, perché lui era con un'amica della mamma che non si è fatta trovare, diceva che il cellulare l'era caduto in acqua durante la festa del Ramadan. Quindi l'UNHCR, Eloime, nessuno la trovava e lei ha preso il gommone ed è partita. Fortunatamente l'attraversata è andata bene, perché invece i morti nel Mediterraneo sono tantissimi purtroppo. E quindi questo bambino è arrivato da noi ed era meraviglioso. E quindi due gemelli riuniti e insieme alla mamma abbiamo cercato, avevamo già organizzato tutto, la scuola, l'avvocato per tutti i documenti, eravamo riusciti a tirarli fuori dal cara, sempre con l'aiuto di Nello Scavo che mi aveva messo in contatto con la Croce Rossa. Abbiamo fatto di tutto, poi le cose non sono andate come speravamo, ma non voglio rovinare il libro, se no non c'è niente da leggere. Senti, se c'è un ringraziamento che è quello per Nello Scavo c'è una colpa, che è quella di Michela Murgia. Sì, è tutta colpa sua se sono finita in mezzo al Mediterraneo, perché io e Michela eravamo tanto amiche e fra l'altro prima di ogni missione andavamo a cena insieme, perché mi portava fortuna. Quindi facciamo tutte le foto e le mandavamo alle altre amiche e lei e le altre amiche del nostro gruppetto mi seguivano sempre a tutte le ore. Diceva abbiamo fatto il rescue prima di dirlo pubblicamente alle 5 del mattina, lo dicevo a loro, perché lei per prima si è battuta per le navi delle ONG e allora grazie a lei io sono andata perché ho chiesto di andare, perché all'inizio mi vedevano e c'erano questa scrittrice, una signora borghese di una certa età che ha sempre scritto di letteratura anche sui giornali, era un po' fuori target, invece era proprio il mio e lei lo diceva fidatevi che Caterina è quella giusta e alla fine loro malgrado mi hanno preso e quindi ho fatto un po' cominciato e quindi è a lei che lo devo, assolutamente. Poco fa in studio parlavamo di oggetti, le reliquie in particolar modo che hanno un valore che trascende l'oggetto in sé per sé. Te hai dei braccialetti? Sì, mi portano fortuna. Ti racconti che cosa sono? Sì, uno me l'ha fatto con due pezzi di cime e un pezzo di nave, la mia amica soccorritrice più giovane che ho conosciuto che aveva 24 anni e io 44 quindi abbiamo 20 anni di differenza e mi ha fatto questo regalo, spero non un pezzo importantissimo ma credo di no perché la nave viaggia ancora, per fortuna, quindi non era una cosa cruciale e questo mi fa molta tenerezza perché quel pezzo di nave mi porta fortuna. Poi i braccialetti che mi hanno fatto i bambini che erano due gemelli quindi diciamo quello che mi è rimasto sono questi braccialetti di plastica che mi hanno fatto al mare quando si divertivano così a giocare con gli oggetti che parlano. Hai nominato poco fa un'altra persona che è Valerio Nicolosi e vogliamo ringraziarlo per le foto, le foto che avete visto nel corso dell'intervista sono proprio sue. Hai nominato a proposito di Mediterraneo che è stato il vostro primo lavoro insieme e oggi stiamo presentando molto molto tanto bene, ci sarà qualcos'altro prossimamente? Ma chissà, io non lo so dire, sicuramente il Mediterraneo per me è importante e non smetterò di partire, questo è sicuro. Dopodiché quando parti è anche difficile stare zitti dopo quando torni, quindi è possibile che ci sia ancora qualcosa. È un'esigenza davvero perché è un mondo così interessante, tragico ma anche bellissimo perché quando salvi le vite non c'è niente di più bello, quindi insomma è un dovere perché è un dovere salvare le vite e soprattutto quello che dico è che non importa che siano simpatici, antipatici, belli, brutti, intelligenti, stupidi, colti analfabeti, possono essere qualsiasi cosa ma vanno salvati, è il loro diritto, hanno il diritto alla vita e quindi le navi ONG che vengono tanto criminalizzate fanno invece un lavoro importante. Dopodiché il Mediterraneo ti sorprende sempre e questa sorpresa da qualche parte la devi mettere, io però l'ho messa in due libri ma non escludo che non ci sia, c'è due senza tre dicono magari arriva anche il terzo. E intanto concentriamoci sul due, molto molto tanto bene se volete continuare questa storia, questa scia e anche scoprire il perché del titolo, leggetelo, è uscito per i Naudi, Caterina Bonvicini grazie per essere stata con noi, grazie per averci portato a bordo di questa nave. Grazie.